attenzione questo qua è un video in cui io non parlerò e cioè mi toccherò un altro video ciao adesso musica a 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